Degrado e città sporca, il comune di Salerno e Salerno Pulita intervengono presentando in piazza Largo Campo nel cuore cittadino una nuova mini lavastrada elettrica. Nei prossimi giorni arriverà anche una mini spazzatrice e la risposta alle tante richieste dei residenti del centro storico. È una risposta innanzitutto alle giuste lamentele degli abitanti del centro storico che sono spesso vittime anche di vandalismi da parte di queste bande di ragazzini. Questo non significa trascurare la zona orientale anche perché noi stiamo approvando un piano di investimenti che preveda lavastrade elettriche e spazzatrice elettriche anche di dimensioni più importanti con le quali saranno fatte meglio e in maniera più efficiente anche le strade della zona orientale di Maricondo, di Pastena, di Torrione, diciamo del centro in generale. Credo che daremo un'ulteriore spinta alla pulizia delle strade. Il sindaco Napoli ha annunciato anche più attenzione al decoro cittadino e di aver sollecitato l'ASL mettendo in campo una sinergia per debellare topi e blatte che invadono i quartieri. Sono stato contattato proprio ieri dal dottor Saggese Tozzi che mi ha chiesto un affiancamento con la ditta che curerà questa derattizzazione e deblattizzazione per fare in modo che il nostro personale che conosce in un modo particolare le criticità possa suggerire il modo più razionale dello svolgimento del servizio.